Una cosa così non si era mai vista. Nelle ultime ore a Milano sono apparsi diversi cartelloni pubblicitari targati a nome dei Club Dogo. Il trio che ha scritto la storia del rap italiano sta finalmente per tornare. A conferma di ciò è stata creata una pagina su Instagram seguita subito da Gue, Jake La Furia e Don Joe. Nel profilo è apparso un trailer a cui ha preso parte anche il sindaco di Milano Beppe Sala in cui è stato annunciato il ritorno del gruppo programmato per il 2024. A questo punto dobbiamo essere pronti a tutto. L'idea che possano rilasciare un nuovo progetto insieme a distanza di dieci anni dall'ultimo non è più una follia. La vera domanda adesso è chi ci arriva al 2024?